praticamente cosa è successo stavo cercando stavo guardando kung fu panda 3 e avevo una sensazione che questa sensazione è che ci fossero dei richiami a world of warcraft con world of warcraft non intendo solamente la lore l'universo di warcraft ma proprio l'mmo world of warcraft a cui ho giocato per anni e sono un grande appassionato giocato per due anni e tendenzialmente perché questa sensazione o sono andato ad indagare ho fatto una ricerca e adesso vi dico che cosa ho trovato innanzitutto la cosa meno evidente e adesso tipo inizio da un primo video è il fatto che il personaggio di kai su questo se andate a cercare su internet ricorda molto un personaggio classico della della lore di warcraft è che si rende protagonista dell'espansione di world of warcraft una che è considerata tendenzialmente la più bella espansione di world of warcraft almeno io condivido questa cosa alcuni dicono addirittura world of warcraft è la prima uscita ma non importa che è the barman crusade praticamente in world of warcraft c'è un personaggio di nome illidian che ricorda si chiama illidian ha pure un cognome figo mi pare con la tempesta ora ve lo dico subito praticamente questo illidian è gran tempesta ricorda moltissimo kai o più precisamente kai è stato letto dalla comunità nerd eccetera purtroppo non ci sono cose ufficiali su questo legame world of warcraft però ricorda moltissimo kai una parodia di illidian perché illidian è un demone a queste due enormi corna e utilizza delle armi sempre incantate di con della luce verde ed è un demone che stavano in realtà era un elfo poi diventa che essere intrappolato per diecimila anni mentre kai 500 in una dimensione parallela con una dimensione spirituale e accumula potere sottraendolo ad altri per tornare nel mondo reale da questo mondo che si chiama le outlands ora la questione vi faccio vedere brevemente illidian non importa il volume anzi no poi lo metto la questione è prevalentemente grafica cioè non ci sono ci sono molte differenze no però tendenzialmente è stato riconosciuto questo addirittura se andate a cercare world of warcraft kung fu panda ci sono delle battute di kai che sono battute di illidian cioè proprio a livello di sceneggiatura vediamo un attimino l'idea dove ora detto così non c'è truccazzo però in realtà è abbastanza confermata la pista di una influenza di world of warcraft di di questa cosa su kai da interviste eccetera ma l'importante qual è non è questo il caso c'è la ricerca mi ha portato a scoprire il fatto che praticamente c'è una una influenza a sua volta da kung fu panda a world of warcraft nel senso che è questo è un grande tema che oggi toccherò solamente però world of warcraft sapete che ha avuto un forte declino negli anni però è un gioco considerato che ha fatto la storia della del mondo dei videogiochi è l'mmo americano per eccellenza cosa è successo nel prima di kung fu panda 3 nel 2012 mentre kung fu panda 3 è del 2016 uscì un'espansione di world of warcraft chiamata mist of pandaria già vedete pandaria panda questa espansione da molti critici giocatori eccetera viene considerata all'inizio della fine nel senso che praticamente mentre fino ad allora c'era stato un immaginario coeso basato su razze e classi prevalentemente ispirate a dnd o ispirate comunque a cose di questo tipo a un certo punto qui il team della blizzard e si ispira a kung fu panda 1 e decide di inserire un regno che in realtà ricalca la cina ma la cina ora vedete la rappresentazione molto sullo stile di kung fu panda in questo trailer di questa espansione molti hanno voluto vedere addirittura nell'apparizione di un panda lo stesso po in qualche modo questa espansione di world of warcraft secondo alcune teorie a sua volta influenzato kung fu panda 3 che kung fu panda quindi che cosa succede con fu panda ha influenzato esatto perché praticamente esce l'espansione ufficiale di world of warcraft dedicata a kung fu panda nel 2012 al certo punto nel 2016 esce il nuovo kung fu panda e ci sono praticamente praticamente illidian quindi vi faccio vedere stormbreaker storm rage sì sì perché diciamo che è un cognome importante in world of warcraft se conoscivo al cartello magari lo sai ci sarà certo il fratello eccetera vediamo praticamente che cosa succede due immagini immaginare di kung fu panda e l'immagine di world of warcraft che si incrociano ecco qui l'apparizione della misteriosa figura ma anche questa scena un po ironica anche a livello di immaginario e questa ironia messa anche l'apparizione dell'ambientazione di pandaria vedete se non mi ricorda kung fu panda perché a certo punto la cambia un vetro e si vede un po pandaria il palazzo di giallo cioè determinate cose vabbè tipo ma Per quanto riguarda? Per proteggere la casa e la famiglia Per proteggere la equilibrio e la harmonia Per quanto riguarda Per quanto riguarda Per quanto riguarda? Questa cosa praticamente questa cosa ha causato un grande dibattito nel senso che innanzitutto c'è un intento abbastanza chi conosce warcraft sa che è molto dura e pura la cosa di world of warcraft e quindi il adesso leggo i bandari non esistono warcraft con giocare 2002 ok però praticamente cosa è successo quando è uscita questa espansione che tendenzialmente hanno accusato il team della blizzard di introdurre un'atmosfera non propriamente compatibile con quella di warcraft e questo addirittura riportato diciamo nella storia di questa espansione un aneddoto che viene raccontato è che durante il comic con statunitense un fan fece una domanda da uno degli sviluppatori provocatori e lui si incazzò tantissimo dicendo ma avete mai pensato di fare doppiare i pandaris come cazzo si chiamano a Jack Black di fare tutto di chiamare Jack Black per fare tutte le voci di panda e lui tipo se ne andò incazzato perché praticamente l'accusa che venne fatta è di introdurre un immaginario non coerente di introdurre questo nuovo continente che sembrava la Cina e di rovinare in qualche modo la purezza di warcraft però nonostante nonostante diciamo le i giudizi su misto pandaris è veramente il libro di warcraft o meno la questione è questo era un documento per testimoniare quanto kung fu panda un semplice film per bambini per ragazzi ha inciso nell'immaginario degli Stati Uniti dal punto da diventare addirittura un'espansione di un brand come warcraft nel senso che kung fu panda arriva addirittura a insinuarsi fino a qui così come sei andato a vedere se tu prendi per esempio che Tekken ci sta il panda che combatte eh si quello l'orso kuma ma ci sta anche il panda però nel caso di questo video non è un orso a cazzo cioè nel senso magari uno mi può dire che sto failando e lo accetto però tendenzialmente ci sono pagine e pagine sul fatto che questo video che abbiamo visto è molto legato a kung fu panda penso sia innegabile ma io per esempio non lo trovo perché per esempio il fatto addirittura il fatto addirittura di chiamare la città si chiama come la città di kung fu panda 2 e la si è la sede cioè ci sono su wikipedia è ben spiegato eh la questione per esempio dei pandaris eh si lega al fatto che si vede panda in caso voleste vederlo cioè tendenzialmente la questione che l'ambientazione è fortemente richiamata comunque al di là del fatto che magari facciamo finta che questa cosa non abbia nessun legame con kung fu panda la polemica è esistita davvero nel senso che indubbiamente molte persone hanno accusato la Blizzard di aver copiato kung fu panda mi fa vedere l'influenza di kung fu panda quantomeno nell'immagine esatto quello che stavo per dire indubbiamente non so se nella produzione ma sicuramente il rimando è innegabile non perché sia tipo ah ma l'avete fatto perché non è detto che l'abbiano fatto ma indubbiamente ormai insomma a partire da dopo il 2008 a maggior ragione se quel video è del 2012 insomma c'è il 2000 cioè stiamo là stiamo parlando di 2011 il kung fu panda 2 quindi kung fu panda è cina panda combattenti tre parole diciamo che chi vuole approfondire basta scrivere kung fu panda world of warcraft per vedere migliaia di teorie che addirittura risalgono poi a shen risalgono addirittura tigress e a varie citazioni c'è la questione più profonda ma che non tratterò oggi è il fatto che determinate citazioni di kai di trikes eccetera sono citazioni di warcraft se andate ad esplorare ci sono varie teorie del complotto e ho testimoniato io sono d'accordo con Giorra comunque ragazzi i panda sono cinesi kung fu e cinese ci vuole poco insomma per fare un panda che fa kung fu io sono d'accordo il punto è esattamente quello però cioè come una persona lo faccia un'altra lo faccia ma in quel momento dall'idea di quanto sia grossa l'immaginario di kung fu panda che se un altro fa una cosa del genere dicono hai copiato kung fu panda diciamo che no che è talmente evidente però è quasi diventa appropriante dell'immaginario esce kung fu panda è tipo deve addirittura entro nel più grande MMORPG americano per quanto ci fossero prima però tendenzialmente è stata legata nella come ricezione al successo di kung fu panda è stata legata da una parte apprezzata questa è criticata per questo il punto è quanto è diventato grosso kung fu panda perché è stata legata non perché dire ah perché originalmente perché poi sono d'accordo cioè il panda è quello ma anche lì gli animali che fanno le cose sono animali cinesi ah perché il kung fu sono gli animali sì come nelle cose degli animali in cui il serpente combatte è il serpente lo stile del serpente quindi va su questo il mondo è il mondo è il mondo è il mondo